il sistema euro a detta di molti osservatori ed economisti delle più varie disparate estrazioni politiche è destinata a crollare lei trova questa ipotesi plausibile cioè tornare a valute nazionali ma rimanendo imprigionati dentro agli stessi paradigmi ideologici odierni di libero scambismo secondo lei in questo quadro cosa cambierebbe beh sì io adesso non so se crolla o non crolla direi che così la mia impressione che non crolli proprio nulla che non ci saranno crolli gravissimi ma però far previsioni su questo specifico problema sinceramente mi sembrerebbe di dover far quasi il profeta comunque non so non sono in grado di valutare adeguatamente non credo comunque pare che ne avevo accennato già prima nella prima domanda non credo che il problema essenziale per per esempio per acquisire al limite una maggiore autonomia nazionale una maggior sovranità sia semplicemente la politica monetaria il problema di ritornare alle monete nazionali o altro genere o altre cose del genere secondo me in effetti occorrono altri fenomeni fenomeni che però di cui non vedo nulla all'orizzonte occorrono proprio altre forze politiche insomma per esempio nel nostro paese tanto per dire in francia c'è il front nazional ma anche lì non saprei esprimere al momento un giudizio preciso e definitivo ecco certamente non vedo forze al momento in europa e tanto meno nel nostro paese che siano in grado veramente di acquisire un'autentica indipendente o comunque un'autonomia ecco sufficiente e il libero scambio credo come già fu nell'ottocento con la teoria del commercio internazionale per esempio di riccardo si è funzionale sempre al paese centrale il paese predominante il paese che grosso modo costituisce il coordinatore entro in qualche modo ecco del sistema mondiale credo di sì insomma il libero scambio è sempre favorevole non a caso nell'ottocento si svilupparono anche in contrasto con riccardo le teorie di list che poi in definitiva si affermarono perché si fermarono in germania sicuramente si affermarono in giappone e furono all'origine di fatto il protezionismo della guerra civile americana insomma non scordiamocelo mai non la liberazione degli schiavi altre cose del genere ma effettivamente il fatto che l'industria del nord voleva proteggere l'industria nascente secondo le teorie che furono anche appunto di list e invece il sud cotoniero aveva tutto l'interesse a mantenere il libero scambio perché forniva il cotone all'inghilterra e all'industria appunto tessile inglese tanto è vero che l'inghilterra in quel periodo sposto molto i suoi commerci anche le sue interesse si diciamo anche la coltivazione di cotone eccetera per esempio in India Egitto eccetera proprio perché si hanno creati problemi con gli Stati Uniti e indubbiamente questo problema è stato secondo me proprio l'elemento centrale della guerra civile elemento fondamentale altri parlano della liberazione degli schiavi non nel senso buonista della liberazione dell'uomo degli uomini questo la giustizia no nel senso che che viene illustrato nel film che è imada da Marlon Brando quando spiega che la differenza tra la moglie e la prostituta non so se chi si ricorda questo insomma per cui insomma il fatto di liberare gli schiavi e renderli lavoratori salariati era comunque un vantaggio ma era un vantaggio pur sempre insisto per il problema dell'industria del nord e l'industria del nord chiedeva anche il protezionismo perché insomma ci sono tutto un problema di economie diciamo esterne, interne eccetera soprattutto il problema che ben si sa per cui l'industria nascente è in svantaggio all'inizio è chiaro che l'industria americana poteva avere costi più alti di quella ingrede quindi aveva bisogno di un periodo di protezionismo che se uno legge anche il testo per esempio di Lista non è mica antiliberista non dice mica che non vada bene il liberismo però in un primo tempo bisogna sviluppare che l'industria nascente raggiunga i livelli di efficienza eccetera di quella del paese più avanzato poi dopo si può anche ristabilire il libero commercio internazionale allora ripeto il libero scambismo oggi a mio avviso serve molto di nuovo come un tempo diciamo quelle teorie all'inghilterra anche questo serve molto agli stati uniti il libero scambio detto questo però insisto quello che è fondamentale deve essere la nascita di determinate forze politiche che non vedo però la possibilità che rifacciano nazionalismi o altre cose del genere ma che insistano con una maggiore autonomia nazionale sicuramente poi su come ottenerla si apre il discorso perché insomma in effetti è un discorso un po' complicato certo in Italia se continuiamo a dare colpi come abbiamo dato soprattutto ai nostri settori strategici quelli un po' gli unici un po' rimasti come Eni, Enel, Finmeccanica eccetera e beh insomma siamo a rischio di ci sono quelli che pensano che basta sviluppare il turismo che fa semplicemente ridere non lasciamo andare insomma quindi sì ritengo che i problemi siano di quest'ordine ecco non vedrei però tanto insisto la politica monetaria come elemento centrale per conquistare questa ci vuole una volontà politica e una capacità e flessibilità strategica che francamente in questo momento non mi sembra di vedere da nessuna parte o da sì mi sbagli Esco un attimo dalla domanda quando noi approcciamo alle politiche monetarie in realtà non stiamo parlando di appropriarci noi di una politica monetaria come strumento politico di lotta bensì di distruggere uno strumento di coercizione cioè la politica monetaria non vuole essere un'arma nostra quanto vogliamo togliere un'arma al liberismo europeo che in aperto contrasto con ad esempio con i saldi finanziari di settore di Godley sta utilizzando la politica monetaria per rendere dipendenti intere economie di intere nazioni dal debito e dal capitale quindi più che un'arma nostra la vediamo come un fattore chiave per togliere un'arma al liberismo No ma togliere l'arma significa già fare una politica però ci occorre appunto una politica e ancora una forza che sappiano portarla avanti questo è il problema cioè è quello che non vedo ci vuole una volontà politica di cui è una capacità che non mi pare di vedere insomma oggi quindi sì appunto voglio dire lo vedo appunto come strumento ma lo strumento deve essere usato da chi lo sa usare e da chi lo vuole usare in una certa direzione anche perché la difesa è una bella cosa ma se uno continua solo a difendersi a cercare di spuntare le armi dell'avversario rischia di continuare sì insomma voglio dire la difensiva è una bella cosa ma poi bisogna anche qualche volta saper passare all'attacco si può ritirare sempre come Kutuzov in Russia lasciare avanzare Napoleone si può fare tutto quel che si vuole ma poi alla fine bisogna dargli la legna e seguirlo noi la vediamo come condizione necessaria ma in senso insufficiente ecco questo è un'acqua è un'acqua come ma in senso insufficiente io ne ragò non 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 ma in senso insufficiente non non Grazie a tutti.